Ciao Serena, permetti? Ti abbiamo aspettato. Ecco qua, tu sei una grande. Io sono il salutatore e ti chiedo un saluto, sei bellissimo, a tutti i tuoi fan. Ciao a tutti. E ti ho regalato la manina del salutatore, proprio per te. Te l'ho portata, così possiamo salutare tutti quanti. Ciao. E buona Befana a tutti. Buona Befana a tutti. Sei stupenda. Auguri a tutti. Grazie Serena. Ciao.